Ci sei? Ascoltami benissimo. Prendi le prime due carte e passale sotto. Uno. Non voglio vedere niente, non so niente. Fatto passare sotto. Quella dopo la butti giù. E quella dopo la butti sotto. Butti giù, butti sotto, butti giù, butti... Fino a finire le carte. Ok? Fai tutto con calma e tranquillità. Butti giù e butti sotto, butti giù e butti sotto. Tutto in maniera regolare. Ok? Fatto? Ci sei? Con calma. L'ultimo la butti giù, butta giù, butta giù. Ok, prendi il mazzo così in mano, tutto in mano. Nessuno può sapere la situazione delle carte, nessuno, niente, niente. Ora ascoltami benissimo. Le carte le prendi una alla volta lentamente e ti fermi quando vuoi più. Buttele uno sotto l'altro. Vai. Lentamente. Quando vuoi ti fermi. Non vedo. Su, su. Ok, mettila sotto. Adesso guarda la carta che hai, guardala. E così non voglio dare niente. Guardala e lasciala là. Fatto? Ok. Ok, chiudi, butta giù, butta giù, butta giù. Taglia, taglia. Mettile sotto e mescola, io non voglio soppare niente. Ok, tu sei d'accordo? Io non posso mai sapere al mondo intero che carta è. Al mondo intero. Ok, guardami bene. Concentri bene. Perché stai pensando all'asso di cuore? Perché stai pensando all'asso di cuore? Perché stai pensando all'asso di cuore? Ciao, ferissimo.